Allora, parliamo un attimo di Head Russell Bladdle Eccoli Russell Dazzle Insomma, questi Sono sci lunghi 92 o 95 cent... E allora, io li consiglio a chi sa già sciare Perché sono divertenti Fanno fare veramente le curve in pochissimo spazio, ovviamente Ma non hai controllo Quindi se vai un po' forte, non riesci a frenare Se la stabilità praticamente non c'è E quindi, cosa dire? Consiglierei di comprarli? No Però consiglierei di noleggiarli se qualcuno sa già sciare Perché per una giornata ogni tanto sono divertenti Allora, con la faccia distrutta da questa giornata sugli sci sulla neve patocca Volevo dirvi che adesso metto un attimo un videino di me Che vado su questi Russell Dazzle E chiuderei con una battuta la David Foster Wallace Come la sua crociera, diciamo Una cosa divertente che non farò mai più Ok? Mato Ok Ma? Ok Ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.